Dieci mesi fa, quando io stavo aprendo qua, ho detto che devo fare qualcosa. Poi con il Presidente della Municipalità, Ivo Poggiani, che mi ha dato una mano ad adottarmi una strada e poi dei commercianti ci hanno dato una mano a fare questo progetto. Un altro intervento di riqualificazione partecipata nell'ambito del progetto del Comune di Napoli Adotta una strada questa volta per recuperare lo spazio urbano di via Arena alla Sanità, con elementi di arredo sedute in legno messa a dimora di nuove essenze arboree, adeguamenti della segnaletica orizzontale e definizione della sede stradale con l'ampliamento dello spazio pedonale. I lavori sono stati promossi dalla società Poppella e supportati dalla rete dei commercianti e dalla Fondazione San Gennaro i quali cureranno anche la manutenzione e sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della sovrintendenza a conferma dell'efficacia del rapporto tra pubblico e privato. Se ci uniamo insieme tutti i commercianti e il quartiere Napoli, facciamo in modo che Napoli diventa più bella com'è? Sì, è un rapporto che funziona, siamo oramai a 13 adozioni, altre 9 sono in itinere, ancora altre proposte stanno arrivando in particolar modo qui siamo all'interno al cuore della sanità e dunque è un rapporto interessantissimo perché qui hanno lavorato insieme non solo i commercianti, l'istituzione, l'università di architettura attraverso un design anche della famosa sedia che vediamo oggi qui esposta. Beh, è un rapporto in cui ancora una volta si dimostra quanto la partecipazione della cittadinanza è molto sentita nella presa in cura anche di una serie di luoghi della nostra città e nella restituzione in un modo con decoro e abbellita. Un grande lavoro del comune, della terza municipalità, di Poppella, della rete di commercianti, Fondazione San Gennaro, un lavoro di squadra con la sovrintendenza. Qua le macchine prima entravano dentro ai negozi, oggi è uno spazio recuperato alla vivibilità. Questa è una visione di città, nel senso che ognuno si prende cura per quello che può fare della nostra città e con dei vantaggi che sono di tutti. E poco più avanti è stata inaugurata anche l'installazione luminosa dedicata a Totò col testo della sua poesia Core in Alfabeta realizzata da Tiziano Corbelli.